Ciao, io sono Alessandra e io sono Mattia e noi siamo i rappresentanti dell'associazione di promozione sociale Giovani in 3D di Marnate. Siamo nati un paio di anni fa in seguito delle esperienze che abbiamo vissuto nel sociale, in particolare tramite il servizio civile e il progetto Giovani del Comune di Marnate. Perché sei diventato un volontario della nostra associazione? Ho scelto di entrare a far parte di questa associazione perché mi piace stare a contatto con le persone e poi si è creato un gruppo molto bello di amici e perché organizziamo eventi per i giovani e visto che il futuro sono i giovani dobbiamo puntare su di loro. Di questa associazione mi piace che possa stare in mezzo alla gente e aiutare gli altri quando e come voglio. Trovo bello creare eventi per i giovani e trovo bella l'idea di unire tutti i giovani sotto la stessa passione. Perché in questa associazione ho trovato delle persone con dei fini comuni il cui lo scopo è quello di far valorizzare il territorio della Vallolona. Diventare volontario della nostra associazione significa portare delle idee che poi discusse insieme diventano dei progetti veri e propri. Quindi significa anche avere tantissime soddisfazioni. Il nostro scopo è quello di creare aggregazione tra i giovani grazie a eventi e manifestazioni pubbliche, collaborando anche con le istituzioni come il Comune, la Proloco del Paese per far stare insieme tutti i ragazzi. Quali sono i nostri prossimi progetti? Allora abbiamo in previsione, in cantiere, di rifare il Winter Party. Il nostro... Il nostro...